La San Benedettese spugna il rettangolo di gioco del vasto Girardi con un lampo di Tomassini ad inizio ripresa e si gode la testa della classifica. I locali non riescono a fare breccia nella granitica retroguardia marchigiana, ma escono dal Filippo Di Tella a testa alta contro una delle formazioni più blasonate del raggruppamento F. A dirigere in match il fischietto campano Antonio Savino. Per lunghi tratti della contesa i padroni di casa hanno saputo bloccare le iniziative rosso-blu. Proprio il vasto Girardi del tecnico Bifini si fa notare poco dopo il quarto d'ora per la minaccia portata in area avversaria dai piedi di Ferrara. Il portiere Coco è strepitoso nell'intervento e salva il risultato al trentesimo. Interessante sfera di Salatino al centro dell'area, ma nessuno degli avanti di casa impatta sulla stessa. A riposo si va con il risultato ad occhiali. Alla prima vera occasione al cambio di campo la Samb passa in vantaggio. Siamo al quinto, quando Tomassini finalizza un'azione condotta da Cardoni. La reazione dei gialloblu tarda ad arrivare. L'inerzia in favore della squadra viaggiante. Alle a minuto 19 discesa di Minchillo per l'inserimento di Iacovetta. Tutto inutile, palla a fondo campo. Sale l'arrembaggio dell'undici di casa. Iacullo nel finale fa tremare la porta di Coco, servito ancora una volta da Minchillo. Ma non c'è nulla da fare. Gli ospiti stringono i denti e conquistano tre punti pesanti in trasferta. I molisani scivolano pericolosamente al terz'ultimo posto e nella prossima domenica saranno chiamati ad affrontare il Monte Rotondo. La San Benedettese invece raggiunge la vetta del Girone F a quota 11 punti assieme a Fossombrone e Chieti.